Orient, di Christopher Bollen, pubblicato da Bollati Boringhieri. Orient, Long Island. Una comunità chiusa, l'arrivo di uno sconosciuto, una lunga catena di omicidi. Un thriller di rara finezza letteraria. È così che ti ho visto per la prima volta, Long Island, sulla cartina appoggiata al cruscotto della macchina di Paul Benchley, come il corpo di una donna nel porto di New York. Mi sorprende sempre che nessuno veda in quell'isola allungata la forma di una donna, nelle gambe la biforcazione del litorale, nei fianchi e nei seni le insenature incrostate di gusci d'ostrica, e poi la testa, spaccata, rivolta verso New York City. Ancora adesso, quando chiudo gli occhi e cerco di ripensare al luogo dove tutto è successo, la vedo galleggiare lì, nell'acqua, a est. Senza dubbio, chi sta ancora cercando di darmi un volto ricorda soltanto l'ultima volta in cui mi ha visto, subito prima che scomparissi. Si è discusso molto sulla notte in cui ho lasciato il North Folk di Long Island. Come avesse potuto un diciannovenne ricercato per una serie di omicidi eludere la polizia e i vigili locali, tutti troppo lenti tra le pallide paludi gelide, sferzate dai venti invernali del Sound, che trasformano i fondali della costa in spaventose lastre di ghiaccio. Qui la risposta è facile. Ho corso. Quello che è andato perduto, nel vortice crescente dell'attribuzione della colpa, è il ricordo di come fosse arrivato a Orient. Non mi aspetto che crediate alla bontà delle mie intenzioni. Ho imparato troppo tardi la lezione della vita nei luoghi migliori d'America. Occorrono azioni grette, diffidenti, spietate per vivere un'esistenza ordinaria. Ero arrivato a Orient a fine estate. Mi facevo chiamare Mills Chevern ed ero fondamentalmente un bravo ragazzo. Vi ricordate di me in quelle ultime giornate calde? Avete ascoltato un brano tratto dal libro Orient, di Christopher Bollen, pubblicato da Bollati Boringhieri.